Colpisce con un pugno al volto un infermiere, un 54enne, mentre attendeva di essere medicato per una ferita alla testa. È successo a Carini, provincia di Palermo, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato un giovane di 23 anni, accusato di lesioni personali. I militari del nucleo radiomobile, su indicazione della centrale operativa, sono intervenuti al punto territoriale di emergenza in piazza San Francesco, dove l'uomo, mentre attendeva di essere medicato, ha colpito con un pugno un infermiere. L'arresto è stato convalidato dal GIP di Palermo.